Entra in vigore dalla mezzanotte di sabato 21 novembre la nuova ordinanza regionale anti-assembramento firmata ieri sera dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. Un'ordinanza preannunciata da giorni e cucinata a fuoco lento di un confronto fra l'esecutivo regionale e sindacati e associazioni di categoria. Era stata annunciata come ordinanza soft e infatti sono poche le abitudini che cambieranno rispetto a quanto già imposto dalla zona arancione. Fra le poche ce n'è però una ancora mai sperimentata. Alla già vigente chiusura di bar e ristoranti limitati ai soli servizi di asporto e consegne a domicilio imposti dalla zona arancione si aggiunge il fatto che non si potrà più consumare pasti o bevande all'aperto dopo le 16. A Pesaro, ad esempio, chi si vuole fare una passeggiata pomeridiana in centro storico sapeva già di doverla fare con un percorso obbligato di sensi unici imposti dalle direttive comunali ora sa pure che se vuole prendersi un gelato, un panino o una bevanda può farlo ma dovrà andare a consumarselo a casa. Insomma, tutti accorgimenti per limitare al massimo le situazioni di contatto fra persone che all'aperto dovranno sempre utilizzare la mascherina, eccezione fatta per i bambini sotto i 6 anni. Mascherina che resta invece non obbligatoria per chi svolge attività sportiva all'aperto. Norme più restrittive anche negli esercizi commerciali dove si potrà permanere solo il tempo necessario agli acquisti. Negozi in cui andrà obbligatoriamente predisposto un contingentamento degli ingressi. A scuola invece viene dato lo stop alle lezioni di educazione fisica nel caso non si riesca a mantenere il distanziamento sociale di due metri. Sospese le lezioni di canto e di strumenti a fiato. Controlli stringenti sul divieto di assembramento, incisive raccomandazioni a non organizzare cene e feste in abitazioni private. Non c'è divieto ma c'è un forte appello al buonsenso. Novità anche per l'attività di ispezione degli impianti termici che viene sospesa fino al 31 gennaio 2021, eccezione fatta per comprovate situazioni di pericolo.